Dal 19 giugno troverete in libreria oppure sul portale della casa editrice Giubilei Regnani il mio piccolo nuovo libro che si intitola Arte e libertà, sottotitolo Censura e censori al tempo del web. Ho pensato di scrivere questo panflet di poco più di un centinaio di pagine nelle settimane precedenti al Covid, quando ancora tra l'altro il dramma della pandemia, l'allarme sociale non era esploso, per cercare di interrogarmi sul nuovo concetto di libertà, dei limiti della libertà che passa nell'era dominata dal web e dai social. Ovvero se da una parte noi abbiamo questa straordinaria palestra di persone che possono dire la loro su qualunque cosa, dalla politica alla cultura alla società, il calcio, la storia eccetera eccetera, dall'altra parte le opere d'arte sono troppo spesso sottoposte a censure addirittura retroattive, cominciando da quest'opera, il frammento dell'opera pubblicata in copertina al libro di Paul Gauguin censura e censori al tempo del web, lo dice chiaramente, Paul Gauguin aveva dipinto questo quadro alla fine dell'Ottocento, quando se ne stava laggiù lontano, fuggito dalla Francia nelle isole marchesi, ebbene qualche mese fa durante l'esposizione alla National Gallery di Londra, ci fu una vera e propria petizione per togliere l'opera, anzi per togliere proprio Gauguin dalle grandi collezioni e dalle mostre perché sospettato di aver fatto sesso con delle minorenni intorno al 1890, ora capirete certamente una cultura e una società con costumi molto diversi da quelli di oggi. E facendo un salto assolutamente spericolato, proprio in questi giorni, questo libro è appena accennato perché a tutti gli effetti era un caso di cui sarà parlato in realtà già l'anno scorso, l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano, accusato dai cosiddetti sentinelli di essere stato, di aver approfittato durante la guerra in Eritrea di una giovane donna locale, peraltro raccontato anche nelle sue memorie in maniera forse un po' troppo dettagliata. Ah, peraltro nessuno ha ricordato, e questo lo trovo veramente singolare, che la scultura in questione opera di un artista che ha un nome e un cognome, si chiama Vito Tongiani, però entrambi i casi sollevano un problema non da poco, che non dovrebbe essere, ovvero che l'arte venga giudicata da un punto di vista non solo estetico, formale, storico, ma soprattutto etico e moralista. Allora non sono riuscito a trattenermi, ho voluto scrivere questo libro, tra l'altro pubblicandolo per scelta mia personale, sono andato proprio io a cercare Francesco Giubilei, un ragazzo molto giovane, un intellettuale non organico, un intellettuale, un editore libero, che scrive su diversi giornali, che spesso compare anche in televisione nelle trasmissioni di politica e di economia, una persona davvero colta e preparata, gli ho chiesto proprio di pubblicare lui, sono voluto partire da una giovane casa editrice indipendente, quando dico indipendente vuol dire che non sta dentro a nessuna accordata e ho voluto dividere questo libro in quattro capitoli, è un'introduzione, l'introduzione appunto si chiede dove andremo a finire con questa questione appunto del politicamente corretto, in particolare appunto, guardate che belli occhiali che vi metto per l'occasione, in particolare appunto oggi che siamo, badate bene, nel 2020. Il primo capitolo, storie incredibili di censura postdatata, appunto il caso Gauguin, è tempo di cancellare Gauguin, il caso Baltus, anche egli accusato di rappresentazioni al limite della pedofilia, il caso Waterhouse, un classicissimo pittore pre-Raffaelite inglese dell'Ottocento, accusato di una visione troppo maschilista della società per non dire del tentativo di censura ai meravigliosi nudi di Egon Schiele. Poi c'è un capitolo 2 dedicato a internet, finta democrazia, falsa libertà, sembriamo tutti liberi qui sopra, invece non lo siamo affatto. E allora qualche esempio di illusoria libertà dei social, i social che bloccano profili anche di musei perché vengono pubblicati, non so, dei nudi della Gonciarova o addirittura delle sculture di Canova che spesso rappresentava donne e uomini senza abiti e non magari immagini violente. E così abbiamo provato anche a capire come funzionano gli algoritmi, se gli algoritmi che regolano la censura è qualche cosa che viene suggerita così da mente umana oppure c'è veramente un numero che corre per i fatti suoi. Nel capitolo 3 ho voluto mettere insieme alcuni casi di rapporti difficili tra l'arte e il comune senso del pudore, il sesso e quindi non so, il caso Mappeltor, la blasfemia, il caso Kippenberger, lo scandalo di alcune opere della Young British Art da Demenest a Sarah Lucas e poi il caso Cattelan che come voi sapete ha fatto infuriare spesso gli amministratori milanesi in particolare. Nel capitolo 4 il sottile fascino dell'ambiguità, la censura e la politica. Quando la politica interviene a censurare l'opera d'arte, l'arte e la censura e anche la sua parodia. Il caso per esempio di un ex giovane, ahimè, artista italiano che si chiama Giuseppe Veneziano che su questa cosa ci marcia su molto simpaticamente, oppure anche gli ultimi avamposti appunto della censura per opere d'arte che includono in qualche misura animali o addirittura piante. Insomma il panorama è piuttosto vasto. Io spero che dopo aver visto questo breve video abbiate voglia di passare un'oretta, un paio d'ore su questo libro e così cercare di raccogliere il meglio di alcuni episodi passati alla cronaca degli ultimi tempi. Non vi dico altro perché il libro, spero che lo compriate, costa 13 euro, non è un grosso sforzo. Vi leggo soltanto la parte finale della introduzione e pensare che nella storia dell'uomo arte è sinonimo di libertà o almeno lo è stato a lungo, non oggi, perché alcuni modi di fare arte o di essere stati artisti non sarebbero più legittimi nel nostro mondo. Oggi leggiamo l'opera come un insieme di qualità estetiche, stilistiche ed etiche, con una netta prevalenza di quest'ultima, ed è sbagliato. Se l'arte si giudica dalla cronaca, eccoci davanti alle nuove forme di pornografia del dolore che invadono le biennali, le fiere, le mostre indipendenti ai musei progressisti. Eppure nessuno mai si sognerebbe di additare il cinismo di chi si serve delle tragedie a scopi commerciali e autopromozionali. Cercasi migranti, sciagure, femminicidi, guerre e disastri ambientali. Tutto è addomesticato, tutto è uguale, perfettamente corretto. La minoranza è in, la maggioranza è out. Il cristianesimo out, le altre religiose in, le altre religioni in. L'Occidente è out, il terzo mondismo in. Un editore di estrema destra va espulso dal Salone del Libro di Torino e il criminale Cesare Battisti può essere pubblicato dai naudi, fuori catalogo, fortunatamente. L'elenco può continuare all'infinito, funziona solo ciò che è perfettamente corretto. Nessuno si santa offeso, come cantava Francesco De Gregorio. Intanto la libertà dell'arte va a farsi fottere, se ancora si può dire. è inizibile. Grazie.